Prosegue stasera all'atrio superiore del Palazzo Municipale la rassegna Sciacca Libri in Festa 2022. Protagonista lo scrittore sambulcese Enzo Randazzo per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo Scrivere mi è sempre piaciuto. Si tratta del terzo appuntamento di Sciacca Libri in Festa e fa seguito alla presentazione ieri del libro Lea di Angelo Di Liberto. Siamo al terzo appuntamento, anche questa è una novità editoriale. Ieri abbiamo avuto il piacere di incontrare Lea e Marco, due di questi nuovi protagonisti e personaggi del romanzo di Angelo Di Liberto. Oggi pomeriggio ci troveremo presso l'atrio del Comune alle 18 con Scrivere mi è sempre piaciuto, questo nuovo scritto assolutamente originale e nuovo di Enzo Randazzo che mette insieme generi letterari diversi che in questo momento sono particolarmente attenzionati anche dalla critica letteraria perché parlare di un'autobiografia, scriverla, raccontare in questa autobiografia avvenimenti del passato e del presente è veramente un'impresa letteraria non indifferente e oggi pomeriggio Enzo Randazzo ce ne racconterà alcuni dei segreti letterari e ci racconterà anche diversi momenti della Sicilia del passato e del presente. Grazie a tutti.